Gianfranco Rosi con Fuoco a mare si è giudicato l'orso d'oro del Festival del Cinema di Berlino, un premio che il regista ha dedicato ai profughi e alla gente di Dampedusa e ha raccontato quando ho chiesto perché la gente dell'isola fosse così generosa, la risposta è stata perché siamo una terra di pescatori e i pescatori accolgono quello che viene dal mare, dovremmo tutti imparare a essere più pescatori, ha detto Rosi, si è poi detto sorpreso, dopo l'eone d'oro di Venezia due anni fa non mi aspettavo di vivere un altro momento simile, ha detto. Dopo il miglior film, la regia, i giurati, presieduti da Meryl Streep, hanno scelto Mia Hansen-Leuve con il suo l'avenir, cioè il futuro. E il miglior attore, Majid Masturat, tunisino, protagonista in Inebekedi, mentre la miglioratrice la danese Trine Dirholm, protagonista in La Comune. Premio Grand Jury, cioè orso d'argento al secondo miglior lungometraggio, a morte Sarajevo di Dani Stanovic, un film che riapre le ferite della guerra di Bosnia. E' l'ho sveo reato fallo, o l'è sta? Sveo reato.